Dunque noi abbiamo lasciato Cimabue ad Assisi negli anni 80-90 ma sappiamo che Cimabue aveva una bottega fiorentissima a Firenze e quindi presumibilmente Cimabue faceva la spola tra Assisi e Firenze. Ora il ruolo della bottega è un ruolo fondamentale, è il caso di parlarne, ne abbiamo già parlato ma è bene specificare. Purtroppo l'immagine che vi propongo ritrae una bottega del Cinquecento però l'idea comunque di fondo rimane la stessa. Le botteghe durante il Medioevo e anche per buona parte dell'età moderna erano delle vere e proprie aziende. Il maestro, quindi il capo della bottega, il pittore vero e proprio si occupava soprattutto di gestire tutti i suoi collaboratori che nella gran parte erano giovanissimi apprendisti, come vedete ci sono apprendisti che copiano, che disegnano, che preparano i colori, che venivano preparati con le terre, che magari preparano i modelli o che preparano i pennelli. C'è una serie, una gamma infinita di lavorazioni come abbiamo visto anche nella preparazione delle tavole. Andavano sagomate, pulite, messe insieme, in qualche modo bisognava preparare l'imprimitura, la preparazione, la doratura, quindi veramente una grandissima quantità di attività. E il capo scuola, il maestro interveniva soltanto nella fase della pittura vera e propria e non sempre tra l'altro nella pittura integrale delle opere, perché esistevano cartoni di proprietà della bottega e alcune opere venivano replicate. Come vedete in questo caso, sullo sfondo si vede un giovane apprendista che sta facendo il ritratto a una signora. Quindi alcune delle opere venivano lasciate agli artisti migliori e poi il capo scuola, il maestro, interveniva in qualche modo a gestire, a sistemare l'opera completa. In questo caso lo vedete al centro che realizza una scena monumentale con un San Giorgio che uccide il drago. Noi abbiamo già visto cose di questo tipo, in realtà noi abbiamo visto che Nicola Pisano, per esempio, nel momento in cui fa realizzare, realizza e fa realizzare il pulpito del Duomo di Siena, fa realizzare grandi pannelli, molta parte di questi pannelli, ai suoi collaboratori, in particolare al figlio Giovanni Pisano e Arnolfo di Cambio. Quindi il suo ruolo è quello di capo scuola, capo cantiere, controlla, guarda, fornisce modelli, stabilisce quello che si può e quello che non si può, ma non mette direttamente sempre solo lui lo scalpello sulla pietra. Lo stesso farà nel seocento Bernini. Bernini realizza opere eccezionali che in realtà materialmente non sono quasi per niente realizzate da lui. Pensiamo, non lo so, al Baldacchino di San Pietro, per esempio, che viene realizzato quasi interamente da Ercole Ferrata e da Raggi, no? Per dire, quindi esistono, questa è una pratica assolutamente comune. Il pittore andava, in questo caso Cimabù, e tornava a Firenze e controllava le commesse, guardava quello che andava realizzato e in qualche modo interveniva in una serie di dipinti. Andando a Firenze però portava anche le novità, le cose che aveva conosciuto, appunto, ad Assisi, a Roma, quello che aveva visto anche rispetto alle opere d'arte realizzate dai suoi colleghi, dai suoi contemporanei. In questa immagine vi faccio vedere, per esempio, la cosiddetta Madonna del Louvre. La vedete sulla destra, si chiama Madonna del Louvre perché oggi è conservata a Louvre, ma fu realizzata per la chiesa di San Francesco a Pisa. Qui siamo, appunto, un pezzo avanti, siamo già nel 1280, e vedete che la vicinanza di questa Madonna col suo modello di poco precedente, realizzato appunto, o comunque contemporaneo, realizzato a Assisi ancora negli anni Ottanta, è evidente, cioè è come se si trattasse dello stesso cartone. Anche se il modello su tavola è ancora più spinto, in qualche modo riesce a raggiungere un livello superiore. Ci sono già ancora più novità, novità che sono ancora più evidenti se paragoniamo questa tavola alla tavola di Coppo di Marcovaldo, l'abbiamo già fatto nel caso dell'affresco, vedete che proprio la distanza ormai è evidente. Da una parte c'è un linguaggio completamente bizantino, dall'altra parte c'è un linguaggio bizantino che però cerca degli effetti di realtà. Quali sono questi effetti fondamentali che vengono cercati? Una maggiore ricerca di tridimensionalità nella struttura del trono, l'abbiamo visto, no? È un trono messo di tre quarti e quindi sporge in qualche modo, anche questo l'avevamo già visto ad Assisi. una prima intuizione di prospettiva, quindi soprattutto nell'idea degli angeli che vengono posti uno dietro l'altro e vi invito a notare che gli angeli sono posti in maniera ponderata, due angeli guardano verso l'esterno, quindi più in basso gli altri guardano verso l'interno. Quindi diciamo c'è una volontà di porre questi angeli che sono ancora incollati uno davanti all'altro, però non sono più uno sopra l'altro, staccati come nella tradizione bizantina, ma sono posti uno di fronte all'altro. Quindi con un'idea di scalatura nello spazio che dovrebbe suggerire una certa tridimensionalità. Contemporaneamente si vede una maggiore umanità dei volti, questo si vede in tutti i volti. Si mantiene il naso a porcella, si mantiene quella bocca diciamo in questa forma standardizzata che abbiamo visto anche nei crocifissi, però c'è un incarnato più dolce, c'è un'espressione soprattutto più dolce, c'è una volontà di creare delle figure che siano delle persone oltre che dei personaggi. E infine è importante il trattamento del panneggio che a parte il fatto che è completamente privo delle lumeggiature che torneranno più avanti, però in questo caso l'assenza di lumeggiature è già molto realistica. E poi questo panneggio attraverso un chiaro scuro abbastanza elementare ma molto sfumato dà la sensazione di fasciare il corpo della Madonna, della Vergine e quindi di dare anche in questo caso un volume, una tridimensionalità. Anche se sembra appesa sopra questo trono, però c'è una ricerca di tridimensionalità. Quale sarà il passaggio successivo? Il passaggio successivo sarà la Madonna di Santa Trinita, la Maestà di Santa Trinita che oggi si trova agli Uffizi, che vedete in questa slide sulla destra, e che è un'opera del 1290-1995, quindi siamo già in una fase molto più avanzata. Il confronto tra le due opere vi fa vedere già la differenza. Nella Madonna di Santa Trinita rimane e permane ancora qualcosa di bizantino che voi vedete immediatamente nell'uso delle lumeggiature, di queste piccole righe d'oro poste a pettine assolutamente antinaturalistico che sicuramente si devono attribuire alla volontà della convittenza, probabilmente la convittenza aveva proprio richiesto, un'immagine che avesse caratteristiche tradizionali. Ma all'interno di questa idea tradizionale, Shemabue sconvolge completamente le sue immagini precedenti e crea una figura perfettamente frontale che ha caratteristiche di assoluta novità, che vedremo appunto. Il trono che è posto frontalmente, che quindi è messo come se fosse un libro aperto, e questo conferisce un'idea di prospettiva e di tridimensionalità. E guardate, anche le figure che stanno sotto, in queste nicchie che si affacciano da sotto il trono, servono proprio a dare questo senso di tridimensionalità, come se il trono fosse sfondato, curvo, e creasse proprio delle nicchie, una sorta di abside, dalle quali si affacciano questi personaggi, questi profeti. Nello stesso tempo, vedete quindi, l'apertura del libro e questi elementi circolari, curvi, che danno un senso di profondità. Nello stesso tempo c'è la veste della Madonna, che noi abbiamo detto ha questi elementi bizantini, le lumeggiature, in compenso però ha un andamento che non ha più niente di lineare, cioè non si sta cercando un andamento decorativo, ma si sta cercando di dare il senso della realtà. Come si fa? Si fa imponendo le pieghe della veste a V, cioè la veste che cala dalle ginocchia della Vergine e compie proprio una V, vedete? Creando uno spazio che è quello che accoglierà appunto il bambino, che è posato su un ginocchio, ma a questo punto sta in una nicchia, che è una nicchia vera, cioè un volume vero, e bisogna fare attenzione a questa cosa del volume, perché la pittura di Cimabue sarà sempre una pittura di massa, di volume, e non c'è più la ricerca lineare, la ricerca di superficie. Quello che manca in Cimabue, quello che Cimabue ha abbandonato, è la ricerca di decoratività, di minuzie, delle cose belle, carine, delicate, ma che non danno assolutamente il senso del volume. Così come in questo senso si utilizzerà una gamma cromatica dai toni molto bassi, cioè una gamma cromatica molto povera, perché questo concentra appunto l'attenzione dell'osservatore sulle masse, sui volumi, e non sulla superficie, sulla pelle dell'opera d'arte. E infine il valore lineare dei panneggi che è fortemente ridotto. Vedete per esempio, io vi faccio vedere le figure qua in basso, vedete che i panneggi non hanno questa grandissima profusione di pieghe che invece potremmo vedere, vedremo nella scuola senese, dove c'è proprio una ricerca di decoratività, di grazia, che in questo caso non esiste più. Qui quello che si vuole cercare è la realtà. Ora se voi guardate il percorso che si è svolto dal coppo di Marcovaldo all'ultima opera di Cimabue, vi rendete conto quanta strada Cimabue ha fatto, utilizzando un linguaggio che è lo stesso fondamentalmente di coppo di Marcovaldo, ma forzando questo linguaggio fino ad ottenere dei risultati nuovi, risultati che noi possiamo vedere identici nel confronto fra i crocifissi. Ora dei crocifissi noi abbiamo parlato talmente a lungo che non mi dilungherei, però vedete all'estrema sinistra la crocifissione di Giunta Pisano, che è il modello diciamo per la crocifissione centrale che è quella di Arezzo, di San Domenico Arezzo, di Cimabue, quindi diciamo un'opera giovanile degli anni 70, quella che vedete all'estrema destra invece dello schermo è la crocifissione di Santa Croce, un'opera degli anni 80 sempre di Cimabue, siamo nell'84, opera purtroppo completamente, quasi completamente rovinata dall'alluvione del 66, ma vi mostro una fotografia precedente all'alluvione, dove si vede tutta una serie di passaggi di informazioni completamente nuove. Cosa voglio dire? Voi vedete che alla fine il linguaggio che utilizza Cimabue nella crocifissione di Santa Croce, cioè quella all'estrema destra, è lo stesso identico di quella all'estrema sinistra, cioè di Giunta. Il punto di partenza, il punto di arrivo hanno evidentemente dei punti in comune enormi, ma questo linguaggio è stato molto forzato e siamo arrivati a una serie di innovazioni importanti. Quali sono queste innovazioni? Intanto è una sorta di allungamento delle membre che sono più languide, quindi in qualche modo c'è proprio la volontà, come abbiamo detto, di trasmettere il sentimento, come le due figure che si prendono la guancia. Il concetto è esattamente lo stesso. I passaggi chiaroscurali sono infinitamente più morbidi, quindi non c'è più questa linea di contorno così marcata, così forte, che sottolinea appunto i passaggi da chiaro e scuro e contestualmente c'è una ricerca di resa anatomica assolutamente più delicata, non c'è più il perimetro dei muscoli disegnati come in un pennarellino staccati fra loro. I muscoli cominciano ad essere indagati come sono in realtà, così come si cerca di indagare la verità per esempio nella trasparenza del perizoma oppure nella sessosità dei capelli e della barba, tutti elementi che contribuiscono a questa forma di naturalezza. Quindi Shibabu è arrivato a un punto in cui attraverso due strade vuole dare un senso di naturalità, di realismo. Una strada è quella della ricerca proprio pittorica, quella del realizzare qualcosa che sia un po' più vicino alla verità effettiva e la strada più importante sarà invece quella della resa dei personaggi nel senso psicologico della resa dei personaggi, cioè le posture, le posizioni, l'atteggiamento umano. Se noi guardiamo l'ultima opera che conosciamo, l'ultima opera documentata di Shimabue che è questo mosaico con San Giovanni Evangelista realizzato per la zona absidale del Duomo di Pisa vediamo proprio questo, cioè qui siamo all'interno di una tecnica che è quella del mosaico che ci fa gioco perché noi sappiamo perfettamente che il mosaico è una tecnica rigida, per definizione il mosaico è una tecnica rigida dove è molto difficile fare il chiaroscuro, dove è molto difficile esprimere il movimento, quindi il mosaico che infatti era una tecnica perfettamente dominata dai bizantini dall'arte bizantina se vi ricordate i mosaici di Ravenna avrà una postura, una posizione molto bloccata, molto ferma. Ecco, Shimabue alla fine del suo percorso riesce a dare vita, vitalità, movimento, chiaroscuro, tridimensionalità anche a questa figura che è fatta in mosaico, quindi riesce a vitalizzare anche il mosaico e questo perché non solo da un punto di vista tecnico e formale, ma proprio da un punto di vista per esempio dell'espressione di questo personaggio, dell'angore di questo personaggio, della posa, dello sguardo, della composizione chiaroscurale, cioè la ricerca di Shimabue è volta tutta a dare vita a delle figure bizantine che erano figure rigide, in qualche modo, in qualche forma figure astratte, figure morte in qualche modo, ritagliate. lui prende quelle figure con quel tipo di figurazione, cioè utilizzando la stessa figurazione dell'arte bizantina e comincia però a dargli vita, in qualche modo a creare una tridimensionalità, un realismo, una ricerca di sentimenti, un'espressività, lo fa per step, valendosi di tutti i suoi maestri, valendosi di tutte le sue conoscenze fino ad arrivare a questo livello, che per noi è fondamentale perché noi conosciamo Shimabue fondamentalmente come il maestro di Giotto e sappiamo che Giotto è colui che farà la vera e propria rivoluzione verso il realismo, verso la verità nella pittura, ma sarebbe impossibile e anche sciocco immaginare Giotto senza Shimabue. Giotto esiste perché esiste Shimabue, ogni artista, l'abbiamo detto più volte, esiste perché esiste la storia dell'arte, cioè perché l'artista ha la possibilità di confrontarsi con gli altri, di vedere quello che hanno fatto e di imparare. Per questo era così importante all'epoca la storia dell'arte nel senso del confronto con altri artisti, così come è importante per voi che fate il dicevo artistico, è impossibile realizzare l'oggi se non si conoscero ieri e è impossibile essere artisti da soli. L'artista è per definizione una persona che si confronta, che vede, che impara, che propone e che si confronta. Dalla prossima volta vedremo un altro tipo di confronto che sarà importantissimo per Giotto alla scuola romana e poi finalmente passeremo ad anizzare la figura di Giotto. Arrivederci.